Ebbene sì, anche Gigi Buffon si ritira dal calcio giocato e fatemi dire che va sempre un grazie, lui è uno dei nostri cinque eroi che sono rimasti mentre la barca stava affondando nel 2006 e questo per me dovrebbe già bastare per raccontare. Un campione del mondo ha sfiorato il pallone d'oro, pallone d'oro e Champions League dove è andato molto vicino con la Champions League, parecchie volte vicino ma non l'ha portato, ovviamente non è il trofeo mancante che fa la storia o che fa il curriculum di un portiere o tra i portieri più forti della storia, per me il più forte della storia perché ha fatto cose straordinarie, cose assurde in porta. E' stato un capitano, ho avuto l'onore di vederlo con la nostra maglia, capitano, carisma, tracinatore, prendersi le responsabilità, mai fare 50 e 50, ha detto sempre ciò che pensava, poi ovviamente qualche atersuccio ci sarà sempre ma una cosa è certa, finisce di giocare un'altra leggenda e secondo me è una delle più grandi leggende del calcio italiano per quello che ci ha dato, per quello che ha dato anche la Nazionale nel 2006 essendo protagonista di quel mondiale vinto, perciò stiamo parlando di un ragazzo, un ragazzone e io in questo caso mi sento ancora più vecchio perché questi giocatori hanno attraversato tutta la mia crescita mentre giocavo e mentre guardavo loro giocare a calcio. Più o meno abbiamo la stessa età, ma è stato qualcosa di eccezionale, straordinario, un portiere unico, la parola è unico. Ci ha fatto sempre urlare dove anche Francesco Reppice nelle sue telecroniche, il numero uno dei numeri uno quando faceva una grande parata, c'è stato un momento nella fase finale della sua carriera con la Juve che è stata la partita di Lione che veniva criticatissimo, perché è stato un portiere parecchio criticato pure e non so nemmeno perché, eppure i risultati e quello che faceva in campo, bastava anche solo un tiro in 90 minuti, lui era pronto lì concentrato per 90 minuti. Quindi a 45 anni ha ancora concentrato sui campi da calcio come se fosse un ragazzino, la passione di un ragazzino, perciò questo fa sì ancora di più di essere il campione di quello che già era come talento. Perciò dicevo che è stato criticato prima di quella partita e quella partita poi ha fatto il finimondo, ha parato di tutto, oltre a rigore, parato in controtempo con deviazione, qualcosa di straordinario. Ebbene sì, finiscono di giocare i talenti, sperando che in Italia possano arrivare ancora altri, ma la vedo dura, soprattutto anche per carattere, atteggiamento, per carisma, per gli obiettivi che avevano, perché avevano e aveva sempre fame Gigi Buffon di essere sempre il migliore al mondo. E spesso ci è riuscito come premio, ma la sua carriera parla per tutti gli anni, è stato continuamente uno dei più forti al mondo, non soltanto per due, per tre o per quattro anni. In tutta la sua carriera forse ha avuto un annetto, un po' che si è fermato, ma invece tutta la sua carriera parla per sé. Perciò io, da tifoso della Juve, da amante del calcio, abbiamo visto il fuoriclasse dei portieri, abbiamo visto un giocatore eccezionale, perché fa parte comunque di una squadra, perciò è un giocatore, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi italiani. Perciò detto questo, io a Gigi non posso che dirgli grazie, li vorremmo sempre bene, da tifoso juventino mi auguro che un giorno vorrei lui, come diciamo una nostra stella o una nostra bandiera nella società Juve, perché c'è bisogno di gente che dice quello che pensa, che guarda in faccia le persone e dice quello che pensa e dice cos'è la Juve per tanti. Perciò io che dirti Gigi, grazie, grazie per le emozioni che ci ha fatto vivere, per il portiere che sei stato, augurandoti ovviamente una buona vita, sperando che la seconda parte della tua vita ti dia le stesse soddisfazioni che hai avuto in questa calcistica precedente. Perciò un abbraccio e dico grazie, infinitamente grazie, e te come gli altri quattro che sono scesi in serie B, ma te fuori classe, fuori dal comune, sarà sempre un grazie infinito. Quando ci sarà la parola Buffon, non Nedvedo, del Piero Camoranesi, e tre seghe, mi dimenticavo il quinto, dopo quella parola ci sarà sempre grazie. Quello è stato un periodo durissimo e grazie a voi, a te Buffon e a voi tutti, l'abbiamo superato. Questo è Gigi Buffon, grazie e in bocca al lupo per il futuro. Fino alla fine.